Taglio del nastro ad Alassio per il punto di assistenza e informazione della Fisascat, la federazione della CISL che si occupa del supporto per i lavoratori del terziario Servizi e Turismo. Il nuovo sportello si trova in via Garibaldi 37 in centro ad Alassio e i lavoratori vi troveranno tutta l'assistenza necessaria per ogni tipo di problematica legata al loro impiego anche stagionale. Quello di Alassio è il primo sportello della Liguria, ma presto seguiranno altre aperture della Fisascat a Imperi, Armaditaggio, Sanremo e Ventimiglia. A tenere a battesimo il nuovo ufficio della città del Muretto è intervenuto il segretario nazionale della Fisascat CISL, Pierangelo Raineri.